Incarnare l'idea dello sport per tutti, alla tua velocità, alla tua età, tutti insieme, l'uno a fianco all'altro e all'altra, campioni e non, con la tua motivazione, per divertimento, per benessere, per sfida. Tutto questo è Vivi Città, la coloratissima carovana di appassionati della corsa all'aria aperta, che oggi ha attraversato l'Italia da nord a sud, passando anche per la Basilicata, a Matera e Picerno. Di corsa per la pace, la solidarietà e la legalità, tutti uniti intorno alla bandiera dello sport sociale e per tutti della UISP. Il via alle 9.30 in contemporanea in 38 città, in diretta radiofonica su Rai Radio 1, media partner della manifestazione. A Matera gara competitiva di 10 km e poi per tutti camminata ludico-motoria. A Picerno, un percorso nel centro urbano di 5 km, con partenza e arrivo in piazza Plebiscito. Camminare e correre per tenere ben chiari i capisaldi dello stare insieme, socialità, solidarietà, inclusione, legalità e pace. Un testimone che passa di mano in mano, che tocca tante città e situazioni diverse. Vivi Città illumina e unisce intorno a valori che attraversano l'attualità sociale. Oggi c'è un forte bisogno di pace, di convivenza, di sostenibilità ambientale. A questi temi è dedicata l'edizione 2024, che ha unito ancora una volta centri storici, istituti penitenziari, periferie degradate e parchi urbani.